venerdì della quinta settimana di quaresima leggiamo dal vangelo secondo giovanni in quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare gesù gesù disse loro vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del padre mio per quale di esse volete lapidarmi di risposere giudei non ti lapidiamo per un'opera buona ma per una bestemmia perché tu che sei uomo ti fai dio disse loro gesù non è forse scritto nella vostra legge io ho detto voi siete dei ora se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di dio e la scrittura non può essere annullata a colui che il padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite tu bestemmi perché ho detto sono figlio di dio se non compio le opere del padre mio non credetemi ma se le compio anche se non credete a me credete alle opere perché sappiate e conosciate che il padre in me e io nel padre allora cercarono nuovamente di catturarlo ma egli sfuggì dalle loro mani ritornò quindi nuovamente al di là del giordano nel luogo dove prima giovanni battezzava e qui rimase molti andarono da lui e dicevano giovanni non ha compiuto nessun segno ma tutto quello che giovanni ha detto di costui era vero e in quel luogo molti credettero in lui parola di dio qui abbiamo ancora una volta i giudei che vogliono uccidere gesù vogliono lapidarlo e questo ancora una volta ci conferma qual è la grande sfida la grande pretesa che gesù sembra avere agli occhi loro che è una pretesa inaudita vuole farsi dio ricordiamo sempre che per gli ebrei dio era l'assolutamente altro era il totalmente altro per cui che un uomo dicesse di essere dio era una follia già lo è per noi immaginiamoci per loro tanto che lo vogliono uccidere per due volte tentano di di ucciderlo di catturarlo di lapidarlo ora gesù nella discussione che ne viene da un criterio che è quello che noi dobbiamo tenere presente che è questo ma guardate se io compio le opere del padre mio se compio le opere del padre mio credetemi e questo criterio lo dobbiamo usare anche noi se gesù compie le opere del padre compie delle opere da dio o no ma allora domandiamoci qual è la grande opera di dio potremmo pensare a grandi prodigi grandi miracoli ma il grande prodigio è già l'esistenza della natura della vita l'opera di dio specificatamente quella di gesù è che dimostra di essere dio capendo e compiendo e potenziando tutto quello che c'è nell'uomo se dio ha creato l'uomo allora seguire dio gesù che dice di essere dio fa in modo che noi seguendo lui possiamo realizzare il nostro essere uomini realizzare tutto quello che c'è in noi di umano tutto ciò che di buono c'è nella nostra umanità con gesù se è dio con gesù deve essere potenziato questo è il grande criterio ed è quello che ognuno di noi è chiamato a fare a verificare se seguendo gesù la vita la propria umanità il proprio modo di pensare il proprio modo di amare il modo di agire di usare del tempo di usare dei soldi di usare delle energie diventa più grande diventa più vero diventa più umano questa è la grande opera di dio e a questo noi siamo chiamati a verificare seguendo gesù che la nostra umanità diventa più grande e allora ormai siamo agli inizi della pasqua che realizza esattamente questo realizza la vera umanità che vince anche la morte buona giornata e buona verifica